Non esiste alcun modo per verificare immagini e video che arrivano da contesti di conflitto. Ma veramente? Ciao, sono Simone Fontana. Io sono Anna Toniolo. E questo è Veramente, il podcast di Facta News. Vi ricordate dell'OSINT? Nello scorso episodio di Veramente ve ne avevamo brevemente parlato come di una serie di tecniche utili a reperire informazioni dagli scenari di guerra. Fonti aperte e accessibili a chiunque che i giornalisti, ma anche semplici appassionati, possono utilizzare per porre un freno alla disinformazione e ricostruire i fatti nella loro complessità. Vi avevamo anche raccontato che il giornalismo OSINT sta vivendo il suo periodo di maggior successo, anche in relazione agli ultimi tragici avvenimenti medio orientali. Ma che per una strana legge del contrappasso, i numerosi tentativi di emulazione, spesso un po' goffi, hanno finito per creare un nuovo e più sofisticato tipo di disinformazione. Ebbene, oggi parleremo di nuovo di OSINT, ma lo faremo valendoci dell'aiuto di un esperto molto preparato sul tema, che ci aiuterà a capire in che modo questo tipo di giornalismo può aiutarci a raccontare l'escalation di violenza in corso in uno scenario complesso come quello della striscia di Gaza. Lui è Alessandro Accorsi, Senior Analyst di Social Media e Conflitti per Crisis Group, un'organizzazione indipendente che lavora per prevenire le guerre e definire politiche che costruiscano un mondo più pacifico. Ciao Alessandro e grazie per essere con noi. Ciao, grazie. Prima di tutto ti chiedo, qual è la definizione di OSINT e cosa intendiamo quando ne parliamo? L'OSINT è in inglese Open Source Intelligence, in italiano la traduciamo di solito come intelligenza a fonti aperte. È l'utilizzo di informazioni che sono disponibili e che sono pubbliche, quindi non sono intelligence di agenzie di spionaggio o altre, ma sono informazioni che possono essere utilizzate, che possono essere trovate da qualsiasi cittadino e utente di social media che vengono analizzate per capire cosa sta succedendo in una particolare situazione. L'esempio più classico è quello di foto o video che appaiono sui social media dopo un incidente o in alcune circostanze e attraverso la geolocalizzazione di queste foto, cioè la verifica che effettivamente si tratti di un posto ben specifico, la verifica del giorno e dell'ora e del mese in cui l'evento è successo, possiamo fare altre analisi, possiamo individuare per esempio nel caso di un'esplosione se ci sono dei resti di un proiettile o di un missile che è stato utilizzato, possiamo cercare di capire se in un certo incidente per esempio ci sono truppe di un esercito regolare o irregolare che hanno delle particolari patch o dei simboli che possono identificarli eccetera eccetera. Questa è un'analisi che solitamente può essere fatta da chiunque, il vantaggio è che essendo a fonti aperte, per quanto ci voglia una specializzazione in realtà è una certa dose di demestichezza per farla, è una cosa che è facilmente verificabile, non stiamo parlando di fonti esclusive o che non possono essere mostrate in pubblico, sono fonti pubbliche e che quindi teoricamente ogni cittadino può vedere. L'OSINT non è una scoperta recente, ma cosa è dovuto questo improvviso boom di giornalismo OSINT nelle redazioni e qual è il loro rapporto con questa tecnica? Allora faccio una forse brevissima carrellata storica sull'OSINT. Diciamo che è iniziato in realtà con la guerra in Siria, che è stata la rivoluzione siriana, quello che è successo all'inizio della rivoluzione siriana e poi la guerra in Siria, è stata un po' in qualche modo la prima guerra sui social media. Non avendo accesso come giornalisti e come ricercatori al terreno perché era impossibile, perché il regime di Assad bloccava l'accesso ai giornalisti, ci siamo fondamentalmente documentati sui social, con le immagini che all'inizio i manifestanti postavano online per mostrare le violenze che stavano subendo dalla repressione da parte delle forze di Assad e poi da lì si è ingrandita come cosa fino a mostrare appunto il conflitto fra le due parti o le tre parti, quante ce ne sono ora. Negli anni diciamo che sono cresciute attorno, specialmente a Bellingcat e poi a Airworth, che è un'altra organizzazione che ha cercato di documentare gli attacchi contro i bombardamenti fatti dalla coalizione contro Daesh in Iraq e Siria, le perdite civili. Diciamo che sono cresciute delle organizzazioni e questo è diventato un metodo che viene insegnato nelle scuole di giornalismo e che in realtà diventa un po' più mainstream. Ci sono due problemi però, che da un lato questa è una cosa che è continuata a crescere in alcune organizzazioni che si occupano del giornalismo investigativo e in realtà in parallelo o in maniera separata rispetto ai media tradizionali, ai media, legacy media. L'altro problema è che queste organizzazioni sono cresciute ma in realtà il loro lavoro, il lavoro che fanno, viene di solito poi preso dai media tradizionali senza che ricevano fondi. Ora, i media tradizionali in realtà hanno avuto un approccio un po' diciamo ambivalente verso l'OSINT. Alcune organizzazioni, ma sono veramente poche, hanno in realtà preso alcuni dei migliori esperti in circolazione, gente che viene solitamente appunto a Bellingcat, Airworth, eccetera eccetera, e hanno creato quelli che chiamano ora Visual Investigations Team. Però se andiamo a vedere in realtà questa cosa ce l'hanno pochissime organizzazioni, sono poche newsroom che sono, che hanno la capacità di fare questo tipo di lavoro. C'è il New York Times, c'è il Washington Post, la BBC, il Financial Times ne ha aperto un'unità di Visual Investigations all'inizio della guerra a Gaza, in realtà il Guardian si è equipaggiato in tal senso, quindi stanno in realtà saltando sul treno, ma non tutte le organizzazioni lo fanno. Molte comunque non hanno la capacità in-house, ma devono appoggiarsi a questi esperti esterni, e questo crea appunto comunque questo cortocircuito, per cui da un lato prendono il lavoro a gratis, dall'altro si creano un po' di cortocircuiti. Ed è un passaggio lento in realtà, perché la tendenza delle newsroom è sempre quella di dover coprire immediatamente quello che succede. L'Osset è cresciuto come strumento non solo per i media, perché anche è uno strumento importantissimo per fare ricerca e soprattutto per fare inchieste anche da parte appunto di organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti umani e di crimini di guerra, è cresciuto perché in alcuni conflitti come l'Ucraina, come Gaza, non c'è la possibilità di accedere veramente al terreno. A Gaza, va ricordato, Israele non permette l'accesso ai giornalisti stranieri e siamo costretti, cioè i media tradizionali, sono costretti a avere le loro notizie, le loro fonti, o da fonti ufficiali del governo israeliano, o da fonti legate a Hamas, o dai giornalisti palestinesi che sono sul terreno che fanno un lavoro enorme, ma più di 20 sono già stati uccisi in queste settimane. Passiamo ora al tema caldo delle ultime settimane, quindi l'escalation di violenza tra Israele e Palestina. Qual è ad oggi il livello di disinformazione che circola sui social media su questo tema? Allora, io mi occupo di Medio Oriente, in particolare Israele e Palestina, da almeno 18 anni. Mi occupo di social media e disinformazione da almeno 7 e non ho mai visto qualcosa del genere. La quantità di disinformazione e misinformazione che circola in questo momento è impressionante. non è solamente la quantità di informazioni false o sbagliate, di teorie della cospirazione, polarizzazione delle opinioni che gira, che è inquietante, ma è anche il modo in cui gli stessi strumenti che poi dobbiamo utilizzare, siamo costretti ad utilizzare per cercare di capire i fatti, vengono, in inglese si dice weaponized, vengono utilizzati per in realtà distruggere la verità stessa e distruggere le stesse certezze. Allora, siamo arrivati a questa situazione in primis perché negli ultimi anni c'è stato un degrado delle policy da parte delle piattaforme social, tutte, a partire dallo scandalo di Cambridge Analytica c'è stata una tendenza a in risposta appunto all'utilizzo improprio di dati delle piattaforme social c'è stata la tendenza a ridurre sempre di più la trasparenza di quello che avviene sui social media e l'accesso ai dati delle piattaforme. Meta, che controlla, che gestisce e opera Facebook e Instagram, dà veramente pochissimo accesso a ricercatori esterni e ad altri per controllare quello che effettivamente succede sulla piattaforma, che tipo di misi di informazione gira, se c'è disinformazione, ovvero se c'è coordinamento e intenzionalità nel far girare informazioni errate, ma anche capire quali sono le policy e gli investimenti fatti dalla piattaforma. Nel caso di Israele e Palestina sappiamo che ci sono delle cose strane che stanno succedendo, per esempio lo shadow banning degli discorsi palestinesi, la chiusura di alcuni account, eccetera, ma in realtà sono cose che sappiamo in maniera aneddotale, perché non possiamo andare a verificare se effettivamente sia così. Facebook e Instagram si sono scusate su alcune cose, ma non sappiamo esattamente che policy stanno utilizzando, come cambiano il loro algoritmo. Alcuni cambiamenti del fu Twitter, OGX, come il ridotto accesso all'API e il nuovo modo per ottenere la spunta blu, stanno permettendo la creazione di un ecosistema di falsi analisti e giornalisti OSINT, che stanno influendo sul dibattito pubblico e in generale sulla reputazione e lo sviluppo dell'OSINT journalism. Ci puoi spiegare come? Twitter, OEX, come in passato, come nel 2014, quando c'è stata un'altra guerra a Gaza, come nel 2021, rimane la piattaforma su cui tutti vanno per discutere di eventi e da cui prendiamo poi la maggior parte delle informazioni, perché si presta anche meglio appunto all'analisi OSINT e a raccogliere dati, eccetera, eccetera, ma che nell'ultimo anno è stata completamente stravolta. Non è solo il nome che è cambiato. Twitter prima era una piattaforma che, per quanto non fosse perfetta, faceva in qualche modo della trasparenza, dell'accessibilità ai propri dati da parte dei ricercatori e della moderazione un vanto e ora invece questo modello è stato è stato completamente distrutto. Da quando Elon Musk è diventato il capo della compagnia un anno fa, esattamente un anno fa, ha innanzitutto licenziato interi team che si occupano di moderazione, di fact-checking, di controllare come l'algoritmo funzioni e come ha effetti perversi. Dall'altra ha sostituito tutto ciò con le community nodes e con un sistema di moderazione basato su intelligenza artificiale che di nuovo può essere molto utile ma che se non sappiamo come è stato creato e su quali database è stato addestrato non ci non ci fa capire se effettivamente se funzioni. Oltre a tutto ciò l'accesso ai ricercatori indipendenti è stato tagliato per cui non possiamo neanche andare a verificare indipendentemente se quello che Twitter fa e dice di fare effettivamente succede oppure no. Facendola breve siamo arrivati in questa situazione in cui abbiamo enormi casi di misinformazioni e disinformazioni che circolano veramente delle difese basse da parte di X per prevenire questa cosa e delle responsabilità enormi di X nel promuoverla perché la vecchia verifica la vecchia spunta blu che identificava poi possiamo discutere se fosse giusta o meno però identificava delle personalità che aveva personalità pubbliche che magari erano giornalisti o altri eccetera eccetera che potevano parlare in un argomento è stata sostituita da un modello a pagamento per cui pagando adesso è diventato fra i 3 e i 10 dollari al mese un utente non solo ha la spunta ma anche una serie di vantaggi i suoi tweet vengono visti da più persone per cui se se io faccio un tweet e pago raggiungo più utenti anche se non mi seguono se non pago il il mio reach è limitato l'algoritmo di twitter di ex e dei social media in generale premia l'engagement che vuol dire che i tweet che diventano virali sono quelli con cui tutti interagiscono commenti ripost like eccetera eccetera siamo arrivati alla situazione in cui ci sono degli utenti che pagando possono in realtà diffondere informazioni false o di informazioni magari non false però messe in un contesto che non aiuta a capire che sono polarizzanti che infiammano gli animi che già pagando ricevono un boost e quindi raggiungono più persone ma più sono infiammatorie più sono provocatorie e più vengono retweetate e riviste sia che siamo d'accordo oppure no questo ha portato a quella che io in questi giorni ho iniziato a definire come quelli che ho iniziato a definire come gli info influencers cioè esattamente come gli influencer su instagram che che seguiamo per non so quale motivo abbiamo la stessa cosa con gente che si occupa di informazione e questi sono account che ci sono due tipi di account principali account che fanno finta di che sembrano dei media o che si presentano come degli esperti e dei giornalisti alternativi cosa che non è nuova cioè gira da tantissimo tempo il media alternativo o la persona che ti ti parla di ti espone le teorie della cospirazione eccetera eccetera c'è stato col covid c'è stato con l'Ucraina c'era stato da prima con la Siria eccetera eccetera cosa è succedere però ora che questi account che utilizzano che diffondono informazioni non per un dovere di informare ma per in realtà generare engagement utilizzano le informazioni in maniera fuori contesto spesso errata e e le postano con la con la speranza di essere retriptati pagano quindi riescono a raggiungere più persone postano contenuti che infiammano quindi raggiungono ancora più persone e fino a tre giorni fa potevano monetizzare questo traffico che generavano l'altra cosa che è molto preoccupante che invece è che è un altro fenomeno nuovo è quella degli account di insiders militari o politici osint che in realtà non sono esperti osint e non sono analisti politici questi sono account che per lo più sono usciti fuori con l'ucraina con la guerra in ucraina sono account che prendevano delle analisi osint fatte da altri in realtà fatte dai gli esperti indipendenti che verificano dai due lati le prendevano e selezionavano diciamo le informazioni che rientravano in una loro visione del mondo in queste settimane ci sono state una serie di incidenti che sono successi di cui sappiamo in alcuni casi qualcosa e abbiamo un po' più di certezza in altri casi ancora non abbiamo risposte assolute grazie all'analisi osint ma c'erano degli account che si si presentano come degli account di insiders che hanno informazioni privilegiate o account osint e in realtà preventivamente iniziano a far circolare una narrativa una una narrazione scusate fanno circolare prevalentemente fanno circolare una narrazione preventivamente per anticipare una delle possibili teorie oppure mettere il dubbio e rinforzare appunto la visione che no israele è assolutamente ragione o no israele è assolutamente torto e questa cosa è gravissima perché sta mentre il resto del mondo i media iniziano a capire effettivamente che l'osint è uno strumento importantissimo loro lo stanno distruggendo dall'interno grazie alessandro come abbiamo visto il giornalismo osint rappresenta oggi un'incredibile opportunità per tutti gli attori coinvolti nel settore dell'informazione per i grandi editori naturalmente che hanno fiutato l'affare e hanno iniziato a puntare su questo eterogeneo insieme di conoscenze per i giornalisti che possono migliorare la qualità del proprio lavoro soprattutto in quei contesti emergenziali dove è più difficile reperire informazioni verificabili indipendentemente per i lettori infine che possono partecipare in prima persona al processo giornalistico consultando fonti dirette e accedendo a immagini direttamente dal campo è importante sottolineare tuttavia che niente nemmeno le più avanzate tecniche di osint potrà mai sostituire il lavoro dei giornalisti impegnati sul campo di battaglia persone che ogni giorno mettono la propria professionalità e persino le proprie vite al servizio della corretta informazione persone come Ibrahim Mohamed Lafi Saeed Altawil Salma Mkheimer e altri 30 tra giornalisti e operatori uccisi dall'inizio dell'escalation nella striscia di Gaza potete trovare tutti i loro nomi nella descrizione di questo episodio FACTA News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook Instagram e TikTok Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843 Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp Il podcast di FACTA News è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo e prodotto da Jessica Mariana Masucci Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di FACTA News di FACTA News di FACTA News